Mi chiamo Cristiano Ronaldo e io sono il gran giocatore della Juve e comunque ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Angeli Calciatori e oggi ragazzi siamo qui per aprire 18 pacchetti dei calciatori panini 2018-2019. Vi mancava questa nuova serie? Perché l'anno scorso avevamo fatto quella del 2017-2018 e oggi andremo ad aprire 18 pacchetti. Però prima di andare ad aprile salutiamo Ilaria, Martina, Sofia, Alessia, Beatrice e Noemi. Ciao! Iniziamo subito con le 18 pacchetti. Abbiamo Zonzi, Trost e Kong, Lysen, Davide e Nicola l'allenatore dell'Udinese e tre giocatori del Brescia. Ok, poi in ogni pacchetto in ogni pacchetto sceglieremo il più forte cioè Zonzi. Mettiamo qua. Comunque andiamo con il secondo pacchetto. Abbiamo Izzo del Torino, poi Pasalic dell'Atalanta, Iguain del Milan che adesso è andato al Chelsea, non so dove vuole andare. Lo scudetto del Palema e tre giocatori del Palermo. Allora adesso andiamo a prendere Iguain. Mazzitelli del Genoa, Palacio del Bologna, Szczesny della Juve, poi tre giocatori dell'Ascoli e poi la maglietta della Sampdoria. Andiamo a prendere Szczesny. Mettiamo così, così voi potete vederlo. Andiamo avanti con il terzo e quarto pacchetto. Abbiamo Balic dell'Udinese, Biglia del Milan, Pepeena del Milan, poi tre giocatori del Benevento e la squadra femminile della Juve. Andiamo a prendere Biglia. Poi con questi giocatori ragazzi, io alla fine li metterò tutti in posizione e formeremo la squadra. Allora, Marcianic dell'Empoli, Rodriguez del Milan, due mesi della Lazio, poi Nicole Milenkovic, la fronte e chiesa, quella speciale della Fiorentina, e poi la squadra completa della Fiorentina. Ci andiamo a prendere due mesi, visto che non ci sono difensori. Oh, tutti dell'Udinese! Vizzeo dell'Udinese, Di Marco del Parma, Barba del Chievo Verona, tre giocatori del Benevento e la maglietta del Sassuolo. Sassuolo. Ehm... Ci andiamo a prendere... Vizzeo. Questo dell'Udinese. In verità nessuno è forte. Ceranoglu, Masiello, Etemai, spero che si pronunci così, Rolando Maran, l'allenatore del Chievo e due scudetti del Lecce della Sferona. Ci andiamo a prendere... 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 La maggior parte adesso sono del... del Milan. Mmm... Abbiamo... Stiacoscia, Perica, Pezic, la squadra al completo del Torino e la squadra della Spezia. Ci andiamo a prendere... Pesic. 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 Andiamoci Pesic. Andiamo con un altro pacchetto. Allora... Teod... 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 Cic... Cic... Non so come si pronuncia. Sorrentino Viviani La squadra del Foggia E te, giocatore del Cremonese Io direi di andare a prendere Sorrentino? Poi ragazzi abbiamo Matis Dell'Udinese Nuitinx Dell'Udinese Scuffet dell'Udinese Poi I giocatori del Carpi E te, giocatori del Brescia Qua mi vado a prendere Lui Nuitinx I giocatori hanno dei nomi che Allora, abbiamo Ramirez Della Sampdoria Poi Miralas Della Fiorentina Sandro Della Genoa Poi Il Lo stadio della Juve Sì, della Juve E poi I giocatori del Cosenza Ci andiamo a prendere a Mirz Abbiamo Allan Del Napoli Acebi Del La Lazio Lioco Giannis Del Cagliari Poi La maglietta del Fiosinone E poi Dei giocatori Del Livorno Qua ci andiamo a prendere Aspettate Allan Poi abbiamo Valotti Della Spalla Pellegrini Della Roma Rossettini Del Chevo Poi Tre giocatori Del Crotone E Pioi E poi Crescito Speciale Ragazzi Se nelle speciali ci sono Non ve l'ho spiegato prima Se nelle speciali ci sono solo un giocatore Possiamo prendere Quindi adesso io vado a prendere Pellegrini Potevo prendere anche Crescito perché anche se era una speciale potevamo andarla a prendere Ok Abbiamo Quadrado Manolas Farias Poi tre giocatori del Venezia E la Supercoppa che ce l'ho già Quindi ci andiamo a prendere Quadrado Allora Junita Del Cagliari Piana Monti Del Fresinone Lui e Vett Della Roma Poi La squadra del Cremonese E tre giocatori del Venezia Ci andiamo a prendere Ci andiamo a prendere Cluivet Della Roma Uuuuh Dalbert Dell'Inter Babacar Del Sassuolo Spolli Del Genoa La Maglietta La Maglietta La Maglietta Del Cremonese Del Cremonese Buonanotte E i tre giocatori dell'Ascoli Ci andiamo a prendere Dalbert Ragazzi Visto che sono così tanti giocatori Non li mettiamo in squadra Vi farò solo vedere i giocatori che ho scelto Allora abbiamo Schiattarella Benatia Baddei Poi Tre giocatori dell'Allas Verona E la squadra del Napoli Ci andiamo a prendere Benatia L'ultimo pacchetto Cotimento fortunato In modo che E voilà Anco Della Fiorentina Mirante Della Roma Cepitelli Del Cagliari Poi Tre giocatori Del Pescara E tre giocatori Dell'Allas Verona Allora ragazzi In questo pacchetto Ci andiamo a prendere Mirante Della Roma Quindi Vi Vi dico Ciò Che abbiamo scelto Abbiamo scelto Cerenoglu V0 Due mesi Biglia Scesni Zonzi Iguarin Pesic Pesic Sorrentino Nu Itint Ramiez Allan Pellegrini Quadrado Miante Benatia Dalbert E Cluvvet Qualche la Quindi ragazzi Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto Mettete un bel pollice Iscriviti al canale E Ciao Ciao